Con la motonave città di Palermo è giunto a Tripoli il gran maestro del sovrano ordine militare di Malta, su altezza eminentissima il principe Fran Ludovico Chigi Albani, che accompagnato da membri del sovrano consiglio e da uno stuolo di cavalieri d'onore e devozione e di dame dell'ordine è ricevuto allo sbacco dal governatore generale della Libia, maresciallo Balbo, ha presenziato in piazza Castello la cerimonia inaugurale della lapide che ricorda i pasti dell'antico ordine cavalleresco dei cavalieri gelosolimitani a Tripoli. Indomani nel villaggio di colonizzazione Olivetti, il gran maestro accompagnato dal maresciallo Balbo e dalla rappresentanza dell'ordine, assisteva alla consacrazione ufficiata dal vicari apostolico della chiesa locale dedicata a San Giovanni dei Cavalieri. La popolazione ha riservato calorose manifestazioni al capo e ai rappresentanti di quest'ordine religioso e militare, benemerito della cristianità e suo glorioso passato, e oggi dedito alla beneficenza in tempo di pace e all'assistenza ospedaliera in tempo di guerra. Grazie a tutti!